Situazione politica sempre più nebulosa a Tortoreto dove per le prossime amministrative potrebbero presentarsi ben sette candidati sindaci. Dopo le ufficializzazioni di Nico Carusi con la lista progetto per Tortoreto, Riccardo Straccialini per il Movimento 5 Stelle, Di Piero Di Nicola per il PD e la coalizione di centro-sinistra, Di Domenico Di Matteo per Abruzzo Civico rimangono da ufficializzare il nome che dovrà venire fuori dalla lista di impegno per Tortoreto. Il gruppo dei dissidenti dell'amministrazione Ricchi, Rosita Di Mizzio, Renato Chichirichi e poi il nome per la coalizione del centro-destra. Ma se per il primo gruppo il candidato sindaco uscirà tra pochi giorni non è chiaro quello che avverrà all'interno del centro-destra. È in corso una guerra fratricida con 4-5 fazioni e con i candidati sindaci che rischiano inevitabilmente di essere bruciati. Domenico Piccioni ha preferito di fatti fare un passo indietro dato che non c'era piena convergenza sul suo nome. Tra le piste tornate in auge quelle dell'ex assessore provinciale Francesco Marconi e dell'ex sindaco Generoso Monti. Ma su questi due nomi non c'è mai stata piena sintesi in una coalizione che oltre a racchiudere i gruppi civici ha all'interno Forza Italia, Udc e Fratelli d'Italia. Si chiede rinnovamento e la civica a Tortoreto sempre vorrebbe candidare Mauro Calbarese con una squadra tutta nuova. Mentre Marconi e Monti non avrebbero una squadra che li sostenga quindi non sarebbero più nomi spendibili. In ogni caso la situazione è in continuo movimento perché c'è il gruppo dell'ex sindaco Alessandra Ricchi che vorrebbe candidare Lanfranco Cardinale. A Tortoreto c'è chi sostiene che non riusciranno a presentare una sola lista. I ben informati ne azzardano addirittura due proprio perché non ci sarebbe verso di fare sintesi quindi con il centrodestra diviso le liste diventerebbero sette.